Musica Hello guys, running and a healer, benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Allora, tutto posto, buona domenica, no buon sabato, oggi è verde, si ok buon sabato a tutti Quindi spero che oggi passiate una bella giornata, questo weekend lungo spero ve lo stiate godendo Tra festeggiamenti vari ma soprattutto tra rilassamenti e mancanza di scuola Quindi quella è la cosa principale, la mancanza di scuola è il poter stare a casa svaccati sul divano a giocare all'Xbox o alla Play Allora, tra pochi giorni, a proposito di COD, visto che stiamo giocando a COD e visto che questo mi uccide Mamma raga, basta Vabbè, dunque a proposito di COD, tra un po' di giorni uscirà Ghost Quindi fatemi sapere nei commenti chi lo prende, chi non lo prende, chi lo prenderà, chi non lo prenderà Chi lo aspetta per le nuove console e chi invece se lo schiaffa per tutte le console, per il PC e per quant'altro Io ovviamente intanto vi intrattengo con il mio bellissimo gameplay da merdoso merdone Che non sono un altro, visto che alla fine le partite lo sapete Ma io di me, non fanno per me, cioè fare dei buoni scorre non è roba mia, brother Oh, 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 come, come, ok Ok, fermi, fermi tutti, ho visto che quello mi ha visto E proprio per questo passo da qua Buongiorno, buongiorno Camperiamo qui, camperiamo qui, dai, proprio, proprio bellamente Allora, quindi fatemi sapere un po' come state passando questo weekend Io purtroppo non ho ancora risolto il problema con Minecraft Ci sto provando in tutti i modi, in tutti i mari, in tutti i luoghi e in tutti i laghi Come diceva il buon vecchio Valerio Scan Aspettate che sposto il microfono, ok, così siano più comodo E quindi niente, penso che oggi pomeriggio, a meno che non riuscirò a risolvere Caricherò, proprio, l'ho già registrato, caricherò a volo un video in cui vi chiederò consiglio Per la prossima serie di Minecraft da fare Quindi, nel caso, aspettatelo perché vediamo di sceglierle insieme Iniziamo insieme su un nuovo pacchetto Io ho già un paio di idee, ma non voglio sbilanciarmi troppo Ecco, aspetto una vostra conferma Che sicuramente ne sapete più di me Sapete più di me quali sono i pacchetti stabili, meno stabili Ragazzi, stanno sfondando il culo Cioè, 23-8, 23-8, 23-8 Cioè, ok, non si gioca così a COD Cioè, così ci si fa distruggere a COD Non giocare Questo non è gioco, questo è morire a COD per gli altri Praticamente, mamma mia, che doppia che ho fatto Why, 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 mamma mia Oddio, adesso lo so, guardate, guardate, aspetta Appena mi sporgo qui, guardatelo Bella, quello è morto Perfetto Dai, cerchiamo di riprenderci, brothers Dai, killate, killate Non fate gli stronzoni Fate le kill Non abbiate paura di far esplodere anche la vostra madre Dai, tirate un po' di grata a cazzo Un po' di C4 Un po' di proiettili random E GG per noi E quindi, stavo dicendo Scegliamo questa nuova serie di Minecraft insieme Potrebbe anche essere un vanilla, eh Volendo Non so quante cose potrei farvi vedere in vanilla Però, comunque Cerchiamo di aiutarci, ecco A vicenda Scegliamo una cosa che può piacere a tutti quanti Sia a me che a voi In maniera molto tranquilla Molto 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 unita, ecco, lo sapete Non mi veniva il termine di unita, brothers No, quella è roba mia Che cazzo fai? È bello, devo avvenire Cioè, ho capito che te gusta il missile Hellstorm Ma è roba mia È roba mia, no Vai, 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 vai Double Double Volevo prendere l'aereo, però Ho detto Preferisco farmi le mie kill Perché poi l'aereo non me la dà Cioè, adesso mi killerà alla morte proprio l'aereo Quindi Semmai siamo un po' più riparati E lontani, soprattutto dalla sua zona Però Va bene così Cioè A noi c'è gusta così Se non c'è gusta a mangiare Non lo so C'avevo una rima, però Non usceva molto figa Quindi Meglio di no Dove cazzo sono questi? Crepa Ok, uno è andato Fermi tutti Fermi tutti Entriamo in stanza Bella 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 Oh 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 Eh, l'avevo visto io Ma c'era una Una partina divisoria di mezzo Di quello degli uffici Ti ho preso Siete mai andati in banca Io non lo vedevo Lui mi ha fatto un cecchina Una cecchinata fantastica Allora Ho visto che vabbè È uscito anche Battlefield 4 Io ancora non l'ho preso Penso che prenderò la prima code Di Battlefield Sinceramente Eh, devo vedere un attimo Come sono messo Vediamo se riesco A procurarmeli entrambi O prima uno O poi l'altro O insieme O poi Vabbè Poi comunque Lo sapete Alla fine Sono giochi che si vanno a prendere Entrambi Più o meno sempre Perché Ci giochi con gli amici Ci giochi da solo Poi ci registra qualcosa Quindi Più o meno Li compri Comunque Perché ci sta Questa è fatta una doppia Che direi che era figa Era dir poco Probabilmente Ma intanto Io sto Cioè qua Vengono gli amici Quindi tutti i nemici Sono di qui Lo sapevo solo io Lo sapevo solo io Ma come Come Why Come è fatto quello a morire Che stava dietro di me Dai però Eh ragazzi Cioè vedete che sto sparando Sparate anche voi a caso Sparate a caso A casa A casa di caso No A casa di caso Lo sapete tutti Si deve sparare così A coda A casa di caso 13 13 No non voglio finire Ciao brothers C'è il Peppe Non so chi sia Ma ti saluto Oddio Ciao Peppe Peppe Hai un cane dietro Peppe Eh Ho provato a dirtelo io Ecco Dove cazzo era il cane È arrivato Guardatelo Guardatelo Mamma mia Proprio il morso Il morso A distanza Tipo Stile ninja Di Naruto No Tipo si è teletrasportato Dietro di me E mi ha morso Grande cane ninja Proprio tipo Evocato da Kakashi Per chi conosce Naruto Stai dicono Sto parlando E quindi Gigi per noi Mamma mia Mamma mia Mamma mia Eh no Ti pareva che Non arrivavano altri Sessantini Altri Un'altra Sessantina Eh Bros Io pensavo Per Minecraft Di fare una serie In 1.2.5 Sulla Technic Perché lo sapete Quel pacchetto Che ho sempre Facuto un sacco Più che altro Per la E2 Praticamente Che Io amo Particolarmente Però Però Ovviamente Non vorrei Rimanere Cioè Diventare ripetitivo Anche perché Ne ho già fatta una Io in Technic Che si chiama Technic Ulterenna Che trovate sempre Cosa sul canale Quindi se siete interessati Go to vedere Ovviamente Go to vedere Non go to watch Ma Ok Cioè Questo è inglese Bro Se dovete capirlo E E niente Allora Io ho fatto 15.17 Egg Fatemi sapere Cosa pensate Un po' Del nuovo code Se avete visto Tanti nuovi Tanti video Appunto Se lo prendete All'uscita o meno Io chiudo qua il video E Vado a cercare Di risolvere Questo problema Con minecraft Nella speranza Di riuscire A controllare Se cazzo Di FTB Se non ci riusciamo Appunto Oggi alle 6 Troverete un video In cui Chiederò A voi consiglio Per la nuova serie Quindi nulla Enjoy E che dovremmo Se con voi Bye bye